Il primo sciopero dopo la pandemia da parte degli studenti? Sì, allora a me piace, più che defino lo sciopero, una manifestazione legittima. Le confesso che per me è un segnale molto importante perché questi due anni di pandemia sembravano avere in qualche modo narcotizzato i nostri ragazzi. Invece questa risposta che per me è di alto civismo ci sta a testimoniare che i ragazzi ci sono. Dalla parte dei ragazzi il preside dell'alberghiero Musatti, ecco l'immortalato nella foto con gli studenti in sciopero e successivamente da noi ripreso pure al bar dell'istituto mentre prepara il caffè spiegandoci che la situazione fa acqua da tutte le parti perché oltre al freddo col maltempo piove anche nelle classi, nei bagni della sede di via rinascita mancano pure porte e maniglie ma la cosa più preoccupante è che mancano proprio le aule, sottolinea, mentre si provvede a riparare il guasto all'impianto di riscaldamento. La città metropolitana è intervenuta come sempre, insomma la mia interlocuzione con questo ente positiva, è intervenuta immediatamente per risolvere il problema.